Protagonisti principali dei cartelloni natalizi saranno i bambini ovvero coloro che più hanno sentito la mancanza delle luci e dei colori del Natale in questi anni. Nel comune di Ischia il Natale è iniziato con l'accensione delle numinarie natalizie con l'inaugurazione della casa di Babbo Natale presso l'ex carcere del Molino alla spiaggia dei Pescatori. Il ricco calendario dei eventi realizzato con il supporto della regione Campania e della città metropolitana di Napoli è incentrato su attività e momenti dedicati soprattutto ai più piccoli per non privarli della magia del Natale. Sono stati non a caso numerosi i bambini che hanno incontrato domenica scorsa il caro Babbo Natale gustando dolci e prelibatezze varie. La casa di Babbo Natale sarà aperta fino all'8 gennaio con diversi laboratori in programma dedicati sempre ai più piccoli mentre il 23 dicembre dalle 19 alle 21 ci sarà un nuovo incontro con Babbo Natale che accoglierà i bambini per ricevere letterine e per scattare foto. C'è stata poi l'inaugurazione del Bosco Incantato presso la pineta degli artisti in via Edgardo Cortese alla presenza dei rappresentanti dell'amministrazione. È stato dedicato un minuto di silenzio e un pensiero alle 12 vittime della frana di Casamicciola. Il Bosco Incantato sarà allestito fino al 31 gennaio mentre i presepi artistici di Schiaponte saranno aperti fino all'8 gennaio e i mercatini di Natale in piazzetta San Girolamo fino al 10 gennaio. La rassegna natalizia presenta numerosi eventi culturali e di beneficenza a cura delle scuole, delle associazioni e delle attività del territorio sempre pronte a dare il proprio contributo e per quanto concerne la musica oltre agli appuntamenti della Chiesa del Buon Pastore del Convento di Sant'Antonio si segnalano due appuntamenti. Il 30 dicembre alle ore 19.30 il concerto con esecuzione di canti gospel il 1 gennaio alle ore 17 al Cineteatro Excelsior ci sarà il Gran Gala di Capodanno con i tre tenori Francesco Malapena, Mario Thomas e Giacomo Mosca e con la direzione del maestro Ciro Montella al pianoforte il maestro Luca Mennella. Visto il momento particolare che sta vivendo l'isola il comune di Ischia ha inteso non organizzare la consueta festa della vigilia di Capodanno in piazza.